Ben ritrovati per la terza ed ultima parte del nostro notiziario di Arezzo Channel AC News. Abbiamo parlato del derby con il Siena anche con il nostro ospite amaranto Carlo Pelagatti. Adesso andiamo a vedere che quali gare ci riserverà la quinta giornata di campionato nel girone A di Serie C. Avremo per la tornata delle 16.30 di domenica Arzachena Albissola, Lucchese Cuneo, Pisa Alessandria, l'Olbia che andrà a rendere visita al Pontedera e la Carrarese in casa della Pro Vercelli. Alle 20.30, sempre domenica, oltre che il derby Siena-Arezzo, vedremo Gozzano Pro Piacenza, Juventus-Sander 23 Pro Patria, Piacenza-Novara e infine Virtus-Entella-Pissoiese. La classifica al momento vede in testa con 10 punti la Carrarese in solitaria, a 9 punti il Piacenza, 7 punti per Arezzo e Pro Piacenza, Olbia a 6, 5 Lucchese, a quota 4 abbiamo il filotto di Pisa-Alessandria-Pontedera e Juventus-Sander 23 di Zironelli, Virtus-Entella, Pro Vercelli, Pro Patria, Gozzano, Pistoiese a 2 punti e a 1 Novara-Siena-Cuneo e poi Arzachena e Albissola a 0 punti. Abbiamo anche una notizia riguardante questa volta la nazionale, quindi la nazionale Under 20, la convocazione del giocatore Amaranto Marco Sala nella nazionale Under 20, è arrivata proprio ieri sera, un motivo sicuramente d'orgoglio per la società Amaranto che vedrà appunto un suo giocatore calcare un palcoscenico importante come quello del torneo 8 nazioni. Andiamo avanti adesso con il programma del settore giovanile, prima giornata per la Berretti che inizierà sabato pomeriggio, domani pomeriggio il proprio campionato sul campo di Palazzo del Pero. La prima giornata in calendario la scorsa settimana, il 29 settembre, è stata rinviata a data da destinarsi, per cui la Berretti giocherà domani pomeriggio alle ore 15 il derby contro il Pontedera, valevole per la seconda giornata di campionato. Tornano in campo dopo la sosta anche gli Under 17 di mister Dante e Gioacchini che dopo una vittoria e una sconfitta affrontano nella quarta giornata la Pistoiese e l'appuntamento è quindi domenica 7 ottobre alle ore 15.30 presso il campo sportivo Luciano Giunti di Arezzo. Arriva anche la Pistoiese per la formazione Under 15 guidata da mister Massimiliano Bernardini che sempre domenica 7 ottobre alle ore 11 presso il campo sportivo di Palazzo del Pero sfiderà gli Arancioni. Gli Amaranto nelle prime due gare disputate hanno ottenuto una vittoria all'esordio in casa contro il Rieti e poi dopo una sconfitta nella trasferta di Pontedera. Prosegue il campionato poi anche dei piccoli Amaranto allenati da Vincenzo Bove, reduci dalla sconfitta all'esordio contro il Bibbiena di domenica scorsa, scenderanno adesso in campo domenica 7 ottobre alle ore 9 affrontando la neonata realtà calcistica giovanile della Casentino Academy. L'appuntamento è al campo Luciano Giunti per la terza giornata di campionato. Torniamo adesso a parlare di attualità. Si aggiunge un tassello all'annosa questione del blocco dei ripescaggi del campionato cadetto che ha gettato scompiglio anche tra le fila della Serie C. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha infatti approvato il decreto legge sulla sicurezza che introduce anche disposizioni urgenti per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. In particolare il testo apporta alcune modifiche al codice del processo amministrativo introducendo strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa nonché della difesa del CONI davanti alla giurisdizione amministrativa. Il decreto disciplina infatti la possibilità per il CONI di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e riserva alla competenza del Tar del Lazio le controversie che hanno come oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione alle competizioni professionistiche, escludendo quindi la competenza degli organi di giustizia sportiva. Il testo precisa anche che le nuove disposizioni potranno essere applicate da subito anche ai procedimenti e alle controversie già in corso. Sarà tuttavia necessario attendere che il testo venga pubblicato nella gazzetta ufficiale perché sia di fronte ad un intervento legislativo in corsa, novità assoluta per tutti e di conseguenza occorre bene capire la necessità di questa norma. Ad attraversare un periodo caotico non è soltanto la Serie C e la Serie B ma anche l'Arezzo Calcio Femminile che dopo essersi costituita quest'estate parte civile nei ricorsi riguardanti la KRL tra Lega Nazionale Dilettanti e FIGC per la gestione dei nuovi campionati di Serie A e di Serie B si trova oggi nuovamente in una situazione di incertezza. La FIGC su indicazione infatti del commissario straordinario Roberto Fabricini ha ufficializzato la decisione del rinvio dell'assemblea elettiva della divisione Calcio Femminile in calendario a Cremona il prossimo martedì 9 ottobre. Soddisfatta quindi la Lega Dilettanti che vede così accolta la propria richiesta che puntava appunto sull'incostituzionalità della decisione di eleggere il consiglio della divisione femminile prima delle elezioni ai vertici della Federcalcio. Lo stesso Cosimo Sibilia, presidente della LND, ha dichiarato «Sono soddisfatto per la decisione assunta dalla FIGC. Noi avevamo invitato il commissario straordinario ad annullare la convocazione di questa assemblea inoltrando allo stesso un'apposita diffida». Si ricorda infine che questa sera alle ore 21 presso la sala dell'arbitro club si terrà l'assemblea di presentazione del nuovo consiglio direttivo di Orgoglio Amaranto presieduto dal neo eletto Marco Amatucci. Tutti i tesserati sono quindi invitati a partecipare a questo primo incontro con i nuovi membri del consiglio direttivo del comitato. Siamo arrivati anche oggi al termine di AC News, l'ultima edizione prima del weekend. Prima dei saluti vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 19.50 con il programma condotto dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci Amaranto World in replica anche domani mattina alle 7.00. AC News torna lunedì sempre alle 13.20. Buon fine settimana a tutti voi.